Un evento che continua ad attrarre attenzioni e interesse. Si sono conclusi oggi nell'auditorium di Sanfermo con la firma della Carta dei Valori per un impegno per la propria città i quattro giorni del Festival della Dottrina Sociale. Incontri e discussioni su come si può cambiare l'Italia conciliando economia, solidarietà e ambiente. Quest'anno le presenze sono aumentate del 30% e il coordinatore del Festival, Monsignor Adriano Vincenzi, ha annunciato una novità per l'anno prossimo. Visto che c'è una maturità raggiunta, questa maturità porta a una generatività e allora per l'anno prossimo pensiamo che oltre a farlo a Verona il Festival sarà anche in altre 10 città italiane.